Partiamo, questo è uno degli interventi che ho detto a Marco, oh dobbiamo fare anche questo, ma tu credi che, no, noi le sappiamo tutte ma loro non le sanno, cioè ci sono una serie di software che costano davvero poco e che sono a disposizione per fare tutta una serie di cose. Adesso facciamo una bella carrellata, benissimo se qualcun altro poi ne conosce altri e vediamo come funziona. Beh, chi sono io? Ce lo evitiamo. Ok, questa è una bella slide che vi fa vedere qual è il costo per lanciare una internet startup. Nel 2000, 5 milioni di dollari per fare certe cose, eccetera. Nel 2005, intanto in mezzo c'era stata l'open source, Linux, lo scalino orizzontale delle macchine, vi dicendo, 500 mila dollari per fare la stessa cosa. Ah, poi la cloud, i servizi, web services, vi dicendo, 50 mila dollari per fare la stessa cosa. Nel 2011 i sviluppatori cominciano a fare loro stessi le cose, oh, a fare una roba che assomigliava molto a quella che si faceva prima, oggi costa 5 mila dollari, 10 mila. Ma è così la cosa, cioè cose che oggi si possono fare a dei costi assolutamente banali, prima era impensabile, ok? Infatti, qua, già soltanto lo stack lamp, cioè Linux, Apache, MySQL e PHP, hanno permesso di fare quelle cose che prima invece doveva avere dei server Unix in un certo modo, con un web server che magari era IIS, con un database che magari era ora, con le società di licenza un tot e poi linguaggi, boh, da sapere. No, tutto gratis, tutto open source, tutto a disposizione, ok? E poi l'altro concetto, dallo scalare verticalmente, nel senso, avevo il server, poi l'altro server più potente, poi avevo bisogno di un altro ancora più potente, però poi avevo bisogno della ridondanza e quindi un altro server, anche lui più potente, eccetera. Io mi ricordo, il primo server che ho comprato con la prima startup, l'ho comprato a una stata che si chiama Vua Linux, negli Stati Uniti è arrivato, costava 12 milioni delle vecchie lire, il server è arrivato, questo mastodonte che, eccetera, che poi messo in server farm, era un casino perché non avevamo, era il momento in cui si iniziava ad avere i REC, sì, ma non era ancora lo standard, eccetera. Ok, il mondo là non c'è più, voi comprate da Amazon le macchine virtuali che volete, ah, voglio tot processori, tot memoria, tot cose, me lo faccio così e dopo cresco cos'ha e mi dice, oh, sì, siamo lì adesso, è vero, adesso è facile, prima non era così facile. E quindi, da il cloud delle piattaforme che dice, ah, ma loro hanno un'architettura tutto in un certo modo, eccetera, oggi ci sono n soggetti che le vendono la loro cloud. Amazon, non so se avete presente, ma vende bene i libri, i prodotti fisici e fa il suo bavo fatturato, ma la maggior parte dell'utile lo fa dalla vendita dei servizi, dalla vendita dei web services, dalla vendita del customer service, della logistica, di tutto il resto, ok, ma la cloud di Amazon fa una quota rilevante dell'utile di Amazon. E per voi farlo così costa comunque meno che farsene in casa, per cui hanno creato efficienza nel sistema banalmente. E Roku, prima piattaforma dove ti configuro le macchine virtuali, ah, voglio un processore, due processori, eccetera. C'è anche in mezzo della gamification, hanno dato i nomi simpatici alle cose, ah, voglio un ninja, due cose così e vi dicendo. Boh, una delle platform. Google Apps, chi conosce le Google Apps? Ok, Google Apps, a regime le Google Apps costano 4 euro per utente al mese e 40 euro per utente all'anno. Eh, costa così, sì, ma fino a 10 caselle? È gratis. Quando parto con la start-up, che siamo in 5, non c'è nessun motivo per non avere la mia intranet fatta nelle Google Apps. Calendari condivisi, standard economy management, accessibili da questi device, con tutta la sicurezza del mondo Google, con l'anti-spam, con tutto quello che viene in mente. Oh, per questa roba qua le aziende pagavano 30, 40 mila euro fino a qualche anno fa. Facciamo la internet e adesso bisogna mettere il sistema di document management, eccetera. No, voi oggi andate lì, prendete il vostro dominio e lo pagate. Eh, dove registrate i dominio? Lo registrate su GoDaddy a 9 dollari e 90 all'anno e poi andate a metterlo su Google Apps e vi registrate le tot caselle, date le persone, eccetera, e voi con 10 dollari all'anno avete, per il dominio, avete la vostra internet per tutti i vostri dipendenti della start-up. Posso chiedere come funziona rispetto ai diritti per i documenti? Cioè se io metto su Google Apps un documento con la mia idea, che succede? C'è un problema che... No, succede che ufficialmente rimane la tua idea, non ci sono problemi e non c'è nessun tipo di problema. Il problema è che in realtà Google, ve lo male, ha quel tuo documento sui suoi server, che di sicuro non lo guarda, perché Google è don't be evil. Quindi il concetto è... Ma perché devi metterci proprio quel documento lì? Cioè... In generale quello che si dice è che Google con i documenti che gli carichi su cerca di fare un profilo di te. Machine to machine, c'è con degli algoritmi. Quindi pensi di dire se di metterli i documenti oppure di certi documenti di non metterli i diritti su Google Apps? Io, una delle storie che ho venduto è una società di dating, avevo il problema di dire oh, ma abbiamo i dati... Era un momento in cui non c'era il recurring billing, quindi prendevamo numeri di carta di credito dei clienti e ogni mese con i numeri di carta di credito ribillavi il cliente e quindi tenevi su un server i numeri di carta di credito. Hai idea cosa succede a quel server? Gli tirano i funghetti sopra dopo un po' da tutti quelli che provano a entrarci, virus, le cose, tutto, ok? Abbiamo crittografato, abbiamo fatto tutto quello che era... Una sola persona sapeva la chiave di crittografia, vi dicendo... In un certo momento mi hanno detto... Ma noi dobbiamo billare una volta al mese da quel... Sì. Facciamo che lo teniamo spento. E' spento. Poi quando dobbiamo billare lo accendiamo con tutte le sicurezza che abbiamo messo e poi quando abbiamo finito di fare la cosa lo rispegniamo. e così non entravano. Statisticamente non entravano. Allora se tu mi dici... Ah ma li metto là crittografati o non li metto? E se non li metti non c'è problema. Ecco. Se li devi mettere sì crittografati va benissimo, però il livello di sicurezza che vuoi, ok? Vabbè, Wordpress per fare i siti. Se uno vuole fare certi siti, bene Wordpress. L'altra cosa carina è che c'è gente che vende i temi di Wordpress già ottimizzati per fare i vari flussi di processo, landing page, ottimizzazione, quindi squids page, sales letter, pagina dell'offerta, il funnel di conversione, la pagina di membership, ok. Ti è tutto fatto. Optimize Press. Premise è un altro così. Optimize Press che non mi sbaglio era 167 dollari, adesso è 97 dollari, no? Beh del genere. Optimize Press. Il primo. Per creare landing page che convertono su Wordpress. Questo è il premise, anche qua stesso concetto, questo se non mi sbaglio viene di suo, 97 dollari anche lui, però non scontato. Sono temi, temi di Wordpress. Qualcuno l'ha fatto, ha fatto tutto il tema, tutte le cose, ti dice, ma a me funziona, se vuoi, vedi te. E sono quelli che vanno per la maggiore, venduti online e via. Mozilla Timble, no, ok, non sono un tecnico, ho già installato mi Wordpress, una macchina Linux, sai, mi viene un po' di orticarie, eccetera. Vabbè, forse non è il mestiere fare startup in term, ma vabbè. Allora, Mozilla Timble, sistema open source per gestire progetti da zero o da altri template. E anche qua, avete un editor HTML, scrivete direttamente, fate le cose, what to see, what to get, semplice, ok. Ah no, dobbiamo progettare il sito, va bene, allora come facciamo, chi fa i siti la prima volta, allora facciamo una pagina così, facciamo una pagina così, mettiamo questo, mettiamo quest'altra, eccetera. Dopo un po' capisci che dici, no, ok, faccio un mock-up, faccio il sito, lo disegno su carta da formaggio, la pagina sarà così, la seconda sarà così, e vi dice, eccetera. Mock-up flow è un sistema per fare questo. O Balsamic, che forse qualcuno conosce, esatto. Balsamic, nasce in Italia, simpatico. Sì, sì. Sì, simpatico anche perché vi permette di, anche di avere la collaborazione distribuita, io lo faccio qua, il mio amico da casa sua mi dice così, mi dice cos'ha, boh, caruccio. Di sicuro i siti complessi passano tramite mock-up prima, perché altrimenti il grafico, la prima volta ve lo fa, la seconda vi, si rompe le palle, oh, prima decidetevi, eh, cosa devo fare, cosa devo fare. Quando hai deciso, qua ci metto questo, qua ci metto quest'altro, qua c'è il bottone, qua c'è questo, poi com'è il bottone, o com'è l'immagine, ok, la pensi dopo. Però intanto hai una cosa che è così, non nell'altro modo che poi bisogna rifare tutto. Snap pages, altro sistema per fare siti, drag and drop, senza competenze tecniche, eccetera. Naturalmente le slide vi arrivano, eh, per cui, o di template, i professionali, e vi dice, chiunque mi, ah, ma allora adesso chiamo un grafico che poi facciamo, mi ha fatto un preventivo, eccetera. Ma comprate un tema che vi piace, mettete su sto sito, cioè. Ah, facciamo la landing page che funzioni, allora il sistema di gestione di landing page che fa così o fa cos'ha, e poi mettiamo tot campi, che poi però ci invia l'email, intanto fa il database. Sì, il sistema di gestione di landing page ci sono, no? Cioè, in un minuto ho fatto la mia landing, scegliendo tre template che funzionano già, non mi invento di nuovo la ruota, e non faccio inventare la ruota al tecnico di turno. eh, layout funzionale, editor, editor, facili, ehm, la dashboard, già strutturato per fare gli abitessi tra più pagine, con, con il sistema interno, il forno di conversione, integrazione con altri, possibilità di sparare direttamente i dati all'interno di un CRM. eh, l'hanno già fatti. Lender. Il sito è lenderapp.com, ma comunque con il lender lo trovate. mmm, boh, template e via. Unbounce, stessa roba, uguale, uguale, identica, non è vero, ha un po' più di feature, costa leggermente di più, ma si parla sempre di decine di dollari al mese, cioè ok, non è che si cade dall'alto a fare queste cose. eh, costruisci la pagina, pubblicala, portaci traffico, testa e ottimizza. Li hanno già fatti. Template, template normali, template mobile, già già strutturati, senza diventarci scemi, che, ah ma ho fatto la rendita, sai, devo spiegare il grafico, come fare, perché lui non ha capito, c'è. 49 dollari al mese, per avere un dominio, fino a 5.000 visitatori al mese, e via dicendo. Wufu. Wufu è, no, ho fatto il sistema, ho già il mio landing page, ho bisogno dei form, soltanto da mettere di qua, di là, e tutto, ok, l'integrazione dei form, Wufu. Un utente, 3 form, 3 report, 10 campi dei form, fino a 100 utenti nel mese, che si indagiscono il form, gratis. Cioè, partire gratis, va bene. Sistemi di abit testing, Google Website Optimizer, che oggi non si chiama più così, perché Google cambia nome ogni 3x2, ma comunque adesso è integrato in Analytics, e si riesce a fare con Analytics. Gratuito, va benissimo. Optimizely, fa qualcosina in più, se poi dovete diventare un po' più sofisticati, visto che lo usa Salesforce, visto che lo usa Starbucks, visto che lo usa MTV, e vi dicendo, probabilmente fa anche al caso vostro, per sofisticare che siano le vostre esigenze. Sistemi di mail marketing, ah no, questo è bellissimo. Ma sì, ma noi spediamo la nostra newsletter, ho messo su il template e poi con l'SMTP del mio server spedisco le mie 30-27.000 email. Eh? Se tu spedisci con il mio server del tuo server, eh sì, funziona, eh sì, funziona fino a che non ti bannano il server per la tua posta, da tutte le parti, eccetera. Cioè, i server che sono fatti per spedire email, sono server che sono fatti per spedire email. Non è che se non è perché tu puoi metterlo sul tuo computerino di casa, o sul tuo computer, o sul tuo server, l'SMTP, e tu puoi poi spedire email. Certo, tecnicamente funziona, ma poi se fai mass mailing vieni bannato. Primo o poi. Se vieni bannato, quando vieni bannato, vieni messo in blacklist, vuol dire che il tuo dominio non spedisce più email. No, ma soltanto, no, soltanto niente, non lo spedisci neanche più a tua mamma. Allora, si usano dei sistemi di email marketing, quello che volete. Qua vi ho fatto vedere, questo è uno che costa 19 dollari al mese. Fino a spedire a 500 indirizzi, è compreso. A 500 email? No, fino a spedire a 500 indirizzi, è compreso. Poi spedisci di tutti i giorni, 26 volte al giorno, una volta al mese, tanto quello costa. Se poi vuoi scalare, dici, ma io ne ho 2000, allora costa altri 10 dollari al mese. Adesso ve ne faccio vedere altri. Cost and contact? Ah, ok, no, fino a 500 email sono 15 dollari. Quindi a 500 email, liste di email, address, ok. Oppure, no, io voglio ancora incominciare più in basso. Mailchimp, fino a 2000 email, 12.000 email inviati al mese, 2000 address. 12.000 email inviati al mese, gratis. Gratis, va bene? Ok, basta. Gratis. Ciao, ciao. No, devo spedire col mio sistema perché sai, poi fa così e devo inviare l'email in automatico, ok, eccetera. Va bene. SendGrid fa soltanto la parte dei liberi. Cioè non è che vi strutturate le comunicazioni, mettete lì la lista, eccetera. No, SMTP esterno come concetto, ok. Cioè vi permette di spedire le email dai vostri applicativi, eccetera. Ok, fino a 200 email al giorno, gratis. Se dopo sali, che ne so, a 40.000 crediti al mese, il prezzo per email è 0.001 dollari. E vai avanti così, ok. Man mano che vai avanti naturalmente scale il prezzo delle singole email. se ne spedisco più di 700.000 al mese, se ne spedisco più di... Se spedisco, ho il mio applicativo che spedisce email in giro, non mi sto a configurare il mio mail server, le mie cose, devo prendere il sistemista, cioè mi appiccico lì, il mio bocchettone, gliele do impasta a lui e lui spedisce. Lead nurturing. Chissà cos'è il lead nurturing, alzi la mano. Pochi. Lead generation, chissà cos'è la lead generation, alzi la mano. Ok, la lead generation è, io faccio un form, faccio pubblicità, qualcuno va lì e si regista perché vuole un preventivo, una cosa, eccetera. Ho generato un lead sul mio servizio. Nel mondo della lead generation, il 20%, il 15% dei lead si converte in vendita. Ok, se hai il 15% dei lead si converte in vendita, il 20%, l'altro 80% che non si converte in vendita, cosa ne fai? E li metto lì, in database, e normalmente li tengo lì e non ci faccio niente, perché funziona poi così, no? No, voi volete fare il lead nurturing, cioè volete allevarli, volete far sì che, e qua ci sono due visioni, la visione è proattiva, volete far sì che inviandogli certe comunicazioni, sempre più mirate, sempre più giuste in funzione dei loro interessi, e in un certo momento questi qua maturino la volontà di comprare il vostro prodotto e poi ve lo comprino. Oppure no, guardiamo quella passiva, tra virgolette, gli invio le comunicazioni, tale per cui, gli invio sempre mirate, sempre sui suoi interessi, tale per cui quando lui matura per volontà sua l'esigenza di comprare quella certa cosa, si ricorda che io esisto, ok? In ogni caso, quelle comunicazioni li volete inviargliele, volete farle sempre più profilate, sempre sui suoi interessi, eccetera. Quindi volete capire, sempre di più di lui, che se un soggetto ha visitato sette volte la vostra pagina dei prezzi, e le ultime tre email che le avete inviato, le ha aperte tutte cinque volte, ha cliccato tre volte sui link, e quello lì è più caldo di quello là che ha ricevuto sì le vostre email, ma non è neanche mai aperto e non è mai tornato sul vostro sito. Quindi quello lì ha uno scoring più alto. Voi volete che quello lì, volete telefonargli, ok? Volete che compri il vostro prodotto in un certo modo. Sistema per farlo in automatico. Ah, ho studiato che se mi aprono almeno le comunicazioni due volte, poi vengono sulla quella pagina del sito vi dicendo, io voglio telefonargli che mi fa statisticamente probabile che gli venda. Ok, allora quella roba lì, faccio sì che mi viene lo scoring in automatico, tale per cui quelle lì mi emergono dagli altri e mi arrivano email ogni giorno con questi tre, sono da chiamare perché ieri hanno raggiunto lo score tra le tali. Noobfuse ha vari piani e uno dice, ma cazzo 265 dollari al mese, cazzo è un francesismo. E' tanto, sì però, il free plan, un utente fino a 500 email nel mio database che si sono registrati, fino a 1000 email e fino a 1000 email spedite e 5000 page view per mese, gratis. Cioè per partire probabilmente non ce l'avrete 500 soggetti che vogliono il vostro prodotto e servizio, ok? E probabilmente neanche dei 5000 page view al mese avrete all'inizio, quindi va benissimo partire con una roba del genere. Chissà cos'è il crowdsourcing? Uno dei, il più famoso sistema di crowdsourcing dove si prende, lavora a poco prezzo è Mechanical Tarker. Sapete cos'era il Mechanical Tarker? Il turco meccanico, non avete mai sentito parlare? Nell'ottocento c'era questo mito per cui esisteva un automa, che aveva le fattezze di un turco, che veniva messo a giocare a scacchi contro i campioni. Quest'automa vinceva, giocava, vinceva, erano tutti stupiti, questa macchina, chi eccetera. Si è scoperto poi che dentro c'era un nano che riusciva a vedere le cose e riusciva a muovere. Ok, qua l'approccio è, c'è il turco meccanico che fa le cose. Ah, succede che una macchina, no, dietro ci sono tante persone che si mettono lì e fanno le cose, ok? Ho un task da fare semplice, metto, posto il task su Mechanical Tarker, dico ognuno che mi fa questa roba ha un dollore e mezzo e poi hai i tot soggetti che lo fanno, 10 centesimi e poi hai i tot soggetti che fanno n volte quella roba lì. Un po' più sofisticato, i lens, dove ricercare freelance, programmatore, vi dicendo, con un sistema di asta e di rating. Io devo fare questa roba qua, un'applicazione così così così, la descrivi, ok? Ah, io te la faccio a questo prezzo, io te la faccio a questo prezzo, io te la faccio così, io te la faccio così, io te la faccio così, eccetera. Ah, ma tu che rating hai? Cioè, il feedback di ebay. Quanti feedback ti hanno dato e quanti sono positivi? Stesso concetto, quando voi finite il lavoro con uno sviluppatore, date un rating allo sviluppatore che ha lavorato per voi. E naturalmente cercano di lavorare bene, di starci nei tempi, eccetera, per avere un rating positivo. Scusi? Sì, stesso concetto. Questo è il più grande che c'è al mondo in questo momento, quindi è il più nutrito come marketplace. No, faccio e-commerce, mi metto lì, faccio l'applicazione e-commerce, eccetera. Sì. Shopify è forse il più famoso al mondo sui negozi di piccole dimensioni. 29 dollari al mese, 2% sulle transazioni. Beh, si può pensare al posto di crearsela. Scusami? Mi vende il 2% di vendimento da me. Sì, se vendi una roba tale per cui non fai l'investimento iniziale, non ti vuoi permettere il 2%, meglio che vendi qualcosa. Cioè, io, arrivano ogni tanto da me qualcuno nell'elettronica e mi dice, ci fai la consulenza per posizionare il nostro e-commerce di elettronica? No, perché ho paura che poi... Allora, non mi interessano i business in sé per cui quote di quella roba lì, grazie, no. Ma ho paura proprio che non riuscite a pagare la mia consulenza perché secondo me fallite prima o poi. Perché il più grande d'Italia in questo momento è in perdita. Grazie, no. Ma senza andare a quelli lì... Scusami? Il più grande... Il più grande distributore di elettronica in Italia è Esprinet. Esprinet ha fatto l'e-commerce B2C che si chiama... Monclick non fa utile. Allora, Mr. Price è stato fondato da un amico a suo tempo che quando a un certo momento ha capito che non riuscivano a crescere... Sono registrato, ve lo dico dopo. Blooming. Gratis. E-commerce, anche su Facebook, vi dicendo... Gratis, startup italiana. Sì, italiana. Più soldi proprio nel tuo padre, no? Sì, siamo soci, se non mi sbaglio. Movilo Shop, e-commerce mobile. E-commerce mobile? Sì, e-commerce mobile. Cioè, faccio l'app che tale... No, no, già tutto fatto. A 9,95 al mese più 1,90 sulle transazioni, oppure le varie formule che volete. Già fatto, con dentro tutti i sistemi per inviare le email ottimizzate per mobile, oppure gli SMS per fare tutta la parte di marketing. Già tutto strutturato, fatto, c'è. Esiste. Altra startup italiana, Stefano Colonna. Bravo. Sistemi di pagamento. Devo mettere il sistema E o Paypal, però va a sapere, c'è qualcosa di più efficiente? Questi qua sono nati per fare concorrenza Paypal e sono molto efficienti nelle integrazioni. Cioè, molto facili integrarsi con questa roba qua. 2,9% sulle transazioni più 30 centesimi ognuna. Da ragionare. Per l'utente si fida. No, questo è, questo è, per lui è trasparente. Lui mette un sistema di, mette il suo numero di carta di credito e è finita. Sì, sei tu che devi essere. L'utente si fida. Tutto è da come costruisci le cose. Cioè, io sono stato socio di una società che faceva dating. Il dating ti dà una carta di credito e viene billata mensilmente. Si fida o non si fida? E in funzione di come tu hai fatto il tuo lavoro. Gestione eventi. Avete visto? Questo è dove vi siete iscritti. Amiando. Amiando è gratis per gli eventi gratis. Se fate eventi gratis non c'è dubbio. Smartphone, iPhone, iPhone, etc. Sì, tutte le stesse robe. Se ha pagamento, un euro per ogni partecipante più il 3% sul fee. L'altro è Eventbrite, questa roba. Qua forse stanno evolvendo. Amiando non c'è... Sì, forse Amiando ce l'ha. C'è la possibilità... Sì, Amiando ce l'ha. Nella parte di avveramento, se non mi sbaglio, ce l'ha. Che puoi far fare la parte di networking pre-evento. Ti puoi far registrare le persone con il loro profilo LinkedIn. le persone vedono gli altri che saranno presenti all'interno della conferenza e possono incominciare a prendere contatti con gli altri per farsi poi l'agenda degli incontri che vogliono fare durante l'evento e via dicendo. Perché tutti gli eventi italiani non lo usano? Non ho capito. Lo usano tantissime adesso. Nel mondo internet. Perché quando fanno... Io sto facendo consulenti... E non lo faccio durante. Ecco. La Ducati dubito che abbia usato Amiando per fare il meeting. Esatto, ma c'è business lì. Io ho proposto... Fate una società di servizi così, ma per tirare su due soldi con il vostro cugino che ha fatto vent'anni adesso e che bisogna invogliarlo a capire come funziona questo modo. Andiamo da tutti gli alberghi che organizzano gli eventi e gli facciamo fare il pacchetto di servizi per la gestione virtuale dell'evento. Eh? Il gruppo su Facebook, il gruppo su LinkedIn, l'evento su LinkedIn, la gestione con un sistemillo così e tutta la parte di mail marketing post-evento. Business. Sì, sono fatti più di centinaia di migliaia di euro all'anno, forse arrivate a un milione, due milioni, cazzate, però... Ok, qua è il prezzo di Eventbrite. Smart o è italiana? Scusami? Smart o è italiana, non è come Eventbrite? Sì, quello che volete. Cioè, intanto, è proprio la filosofia. Cioè, non è che puoi dire, ah, uso Amiando, usa Eventbrite, usa Smart... Bu, domande, altre piattaforme che conoscete, la condivido. Il versionamento del software. Eh, il versioning del software. Il versioning. Quando si fa il software con più persone che sviluppano software... Scusami? GitHub. Non lo conosco. GitHub. GitHub. Non lo conosco. GitHub. GitHub, ho capito, sì. Altro version. Cioè, il concetto è, quando sviluppate software e non lo state sviluppando da soli, volete avere un sistema che vi permette di... Io posto le mie modifiche, poi lui posta le sue e il sistema mi tiene traccia di tutto quello che è il versioning del software. Il ticketing, i bug... Apertura dei ticket. I ticket sono quando c'è un problema di qualsiasi tipo, uno posta il problema, qualcuno si prende in gestione l'attività. Ci sono piattaforme che gestiscono tutto questo, è di tutto gratis. Cioè, basta decidere. Anche un bit su cloud sourcing è un'altra... Ok. Per la creatività. Di cloud sourcing ce ne sono nende, sia su creatività, sia su sviluppo software, sia su compiti semplici di... Ognuno normalmente è un po' verticale. Il Lens è la più orizzontale che io ricordavo, che c'è da traduzioni a coding, a volantinaggio, e vi dicendo, c'è una startup, c'era una startup a TechCrunch Italy, che ha fatto un applicativo mobile per persone, per fare attività sul territorio, concettamente, di monitoraggio scaffali. Ci sono la Procter che dice, ah, vorrei che qualcuno andasse in giro in tutti i supermercati con cui abbia l'accordo, che vada a vedere se Dick Sun è al terzo ripiano dello scaffale in vista, e voglio qualcuno che vada a farmi tutta l'Italia, così. E ci sono questa società che ha detto, ma io ho a disposizione un'app, le persone vengono pagate con carte di credito, se voi andate nel vostro supermercato e fate la foto al Dick Sun, che si vede che è lì o là, dove è, loro pagano, che ne so, 50 centesimi a volta che voi fate quella roba lì. Anche startup sono nate per fare queste cose verticali. Ci sta. Altra domanda, dubbi o perplessità? Ma io il dubbio che ho è tutte le stesse emozioni, nel lungo periodo, come dice Keynes, siamo tutti morti. No, nel senso che il vostro obiettivo è arrivare da lì a lì e testare le ipotesi, ok? Cioè, voi volete fare le cose nel minore tempo possibile, il più efficientemente possibile, per arrivare ad avere le vostre metriche, le vostre ipotesi testate. Certo che se invece no, avete avuto un round di funding, avete già le metriche testate, eccetera, non è piattaforme open source e low cost per gestire la tua startup che ti interesserà. Però, per fare il bootstrap, anche se hai già fatto, cioè, io ogni nuova startup dove investo, oh, Google Apps per le cose, no ma noi abbiamo fatto su Aruba, bravo. Sposta quel benedetto dominio, configura le caselle di là, ma ce l'abbiamo lì, cioè, c'è una che società grande che c'ha, tipo, c'è SmartClip che ha tutto su Google Apps. No, ma Google Apps ha senso in generale, cioè, l'intranet costa meno su Google Apps, che ci sono dei bigli studi di Google che vanno a vedere il total cost of ownership delle piattaforme intranet e ti fanno vedere quanto risparmi pagando Google Apps, sacro santo. Ma quello devi metterti lì a analizzare la situazione. L'approccio è, all'inizio, che è gratis, ma ne inizio niente, lo faccio. E poi l'altro dubbio che ho è l'esperimento della base, cioè, nel senso che se il tuo business da modella, comunque, ha a che fare con i dati, al di là dell'applicazione per gestire il pagamento online, che poi la puoi integrare, quant'altro, tutto il resto, comunque, se il tuo focus sono i dati... ognuno di questi che vive su quel servizio lì, se viene fuori uno, una volta, che mette in dubbio che loro abbiano usato i dati o questa altra cosa, fallisce. Cioè, ehm... Però, cioè, allora, diciamo, responsabilità distribuita, responsabilità di nessuno, non c'è a prendere di volerci. Eh, non è distribuita, ce l'hanno loro. Lender, se uno dice, ma i dati del mio form che c'è su Lender, poi, quello lì riceve un'altra comunicazione da un altro soggetto perché Lender si è venduto quel dato lì a qualsiasi altro soggetto, se viene fuori una volta sta roba qua, se si innesta il dubbio, basta, nessuno lo usa più. Per cui è la minaccia... Ma perché dovrebbero farlo? Cioè, o ha i segreti della NASA, cioè, quanto vale un indirizzo in medio al soggetto eterno? Eh, allora, quando ne vale la pena? Normalmente non ne vale la pena. Cioè, ragionavamo comunque qualcuno di voi sui dati su server terzi. Va bene, Amazon, se ha tutto quello storage che vende, ha di quelle robe, probabilmente ha anche delle robe interessanti. Dubito che si mettano a guardare le robe e Amazon pensi di rubare i file che ha messo su... Cioè, io ho ragione, dico anche Amazon sarà molto più di me a fare questo lavoro, perché io... Questo è in dubbio, il pericolo di questa cosa qua non è effettivamente Amazon o Lender, è quel singolo tecnico che è dentro ad Amazon e che può accedere a... Ma di nuovo, secondo voi Amazon non si è tutelata da quel singolo tecnico che può accedere a quei dati lì e vedere le robe? Cioè, da un certo punto di vista, io che sono piccolo e faccio questo lavoro tramite un'applicazione di uno grande come Amazon, dico, in qualche modo mi alleggerisco di una... Io ho letto quello che alcuni dipendenti di alcuni multinazionali internet firmano, che sono quelle robe che io leggo e dico, ma poi tuo nipote è ancora in schiavitù se tu fai quella roba lì. Eh sì, mio nipote purtroppo sarà in schiavitù. Quindi, sono clausole contrattuali effettivamente, ci sono i casi che... Eh sì, ma è il mondo, anche il tuo socio può domani prendere tutto e scappare con la cassa. Dunque, in Dropbox usano roba e mail, e Gmail. Cioè, Dropbox ha tutto... Appoggiato su... Tra di loro si fidano. Che è un concorrente. No, vabbè, ma allora... Google ha comprato Postini, Postini era una società che faceva mail, ok? E quella roba lì è diventato Gmail. Hanno... È il miglior... È il miglior filtro alti spam che c'è al mondo in questo momento, quello di Gmail. Ti danno fino a 7 giga gratis di spazio. No brain per avere la casella appoggiata lì o non averla. Certo che ce l'ho. Molto meglio di qualsiasi sistema a pagamento che c'è in Italia. Così non faccio nomi, che sono registrato. Il sistema... Ma no, costa pochissimo su quel provider lì in Toscana. Ce ne sono tanti ad Arezzo, non ce n'è uno solo, peraltro. Comunque, sì, avete capito. Basta. A dopo. A dopo.